Ciao a tutti ragazzi, sono Reni e benvenuti a questo nuovo video Allora, sono ritornata Ehm, diciamo, ritornata Perché ho aggiustato un po' il tablet Ho scoperto che è un problema di batteria Diciamo, ho scoperto Vabbè, che già lo sapevo Cioè, lo... Lo pensavo Che era un problema di quello E quindi niente, sono ritornata Non faccio questo video anche breve A parte che già l'ho fatto E... Ovviamente YouTube mi ha detto Annulla il caricamento perché non è riuscito Appunto il caricamento del video E siccome io stavo guardando nel telefono Ma questo video non esce, questo video non esce Appunto, poi ho controllato sul tablet Non so perché Ora faccio questo video e poi lo ricarico Ehm... Ora dite voi Ma non potevi caricare lo stesso video che avevi sulla galleria? No, perché prima l'avevo cancellato Perché io ho fatto tanti video E quindi poi l'ho cancellato Perché sono la memoria Addio, la memoria E quindi niente Questo video però non lo cangello Perché sono... Ehm... Allora, siccome ho guardato Che su YouTube Siamo arrivati a 100 iscritti Sto dicendo 100.000 Ma magari 100 iscritti Anche superati 100 iscritti 100 iscritti E quindi Ci vuole una speciale Ehm... Ora Gli speciali lo faccio Ogni 100 iscritti Quindi 100 200 se ci arriverò 300 se ci arriverò E vabbè Così E quindi Ci saranno due speciali Una Allora Però Non so Ancora Se è la stessa cosa Tipo Io volevo fare Laimai Ehm... Un speciale appunto Dei 100 iscritti Però lo voglio Dividere in due parti No Dividere Fare due video Con due cose Diverse Però non so Che cosa L'altra Quindi Se volete Voi Dei video Che io faccio Quindi Allora Stasera devo andare Dalle amiche E le faccio Da Una Mi viene la parola Ehm... A casa di un'amica Dove ci sono Altre Quattro amiche Quindi Ciao Aurora Clizia Martina E Maria Laura Ehm... E quindi Faccio Io l'ho detto E gli faccio La cosa E faccio Laimai Ehm... Quindi niente Ehm... Aspetta Questo video Non c'è Il video Che farò Stasera Non so Se esce Domani Ehm... Non lo so Mb... Cosa mai Se volete Il video Vabbè Ve lo faccio Uscire domani Oppure lunedì O domani Lunedì Se lo faccio E domani Se no Cosa mai Un altro giorno Ehm... Quindi commentate E scrivete Che video Speciale Che io faccio A parte L'Aimai L'Aimai Lo faccio Con un'altra Amica Oppure Se volete Ancora Aimai E lo faccio Con un'altra Amica Che ho Ciao Francesca E vabbè Niente Questo video È molto breve Ciao 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 Grazie.